Sono 109 le imprese iscritte al nuovo albo del Comune di Gela per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata, cottimo fiduciario e procedura ristretta semplificata, 70 sono gelesi. L'albo si divide in due classi di importo, pari o inferiori a 40.000 euro e fino a 200.000 euro e superiori a 40.000 euro e fino ad un milione di euro ed è articolato in due categorie generali e specializzate, a loro volta composte rispettivamente da 8 e 7 sottocategorie. Requisiti necessari sono quelli di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria. L'elenco subirà un aggiornamento dinamico ogni anno alla fine di gennaio. Questo è un evento importante, è ordinario, è importante perché anche qui dalla gara che è stata fatta, dal bando che è stato fatto a gennaio siamo riusciti dopo quasi quattro mesi finalmente ad avere questo elenco. È un momento importante perché finalmente potremmo dare anche risposta al territorio cercando giustamente di invitare, oltre ovviamente alle ditte esterne, anche le ditte fiduciarie. È un momento importante anche perché possiamo dare una risposta alle tante richieste di lavoro che ci sono attualmente. Il nuovo albo delle imprese di fiducia del Comune di Gela si compone di 70 imprese di Gela e di 40 a livello nazionale. Ci sono anche imprese di Roma, di Trento, di Bolzano, quindi che hanno fatto richiesta di essere inserite nell'albo. È un momento importante perché cercheremo di dare ovviamente risposta a quelle che sono anche le richieste del territorio.